Saranno decretati sabato 25 settembre alle 17 nel centro polivalente Franco Pintus a Orotelli i finalisti della quarta edizione del premio nazionale Salvatore Cambosu. Il premio Cambosu rappresenta per il nostro territorio, ha detto il sindaco Nanino Marteddu, un importante appuntamento culturale di assoluto prestigio che accresce le occasioni di incontro e promuove il pensiero del nostro amato scrittore. Siamo davvero soddisfatti per la partecipazione che, nonostante il periodo che stiamo attraversando, è davvero importante. Sarà una grande edizione. Sono 78 le opere presentate in questa edizione, 61 per la narrativa, 8 per il giornalismo e 9 per la sezione antropologia e tradizioni popolari con la partecipazione delle principali e più importanti case editrici nazionali e regionali. La presenza delle maggiori case editrici italiane anche quest'anno testimonia il livello della manifestazione, ha aggiunto la presidente della giuria Neria De Giovanni, segno che questo concorso sia diffuso nel mondo culturale e le tematiche proposte sono tutte attuali e in linea con l'opera del pensiero di Cambosu.